Commercio in centro storico si va verso la proroga della moratoria per nuove aperture. Per un altro periodo di tempo, che sarà stabilito dalla giunta comunale su indicazione dell'assessorato alle attività produttive guidato da Paola Granucci, non sarà possibile acquistare nuove licenze per la somministrazione di alimenti e bevande dentro la cerchia delle mura. Un provvedimento teso a limitare la proliferazione di bar e ristoranti dell'ultimo decennio e che già era stato caldeggiato e poi adottato dall'assessora Valentina Mercanti nella precedente consigliatura. Il provvedimento in via di approvazione, già richiesto anche da un comitato cittadino in ottica antimovida, ha già ricevuto il plauso della Confesercenti Toscana Nord, che chiede di estendere la moratoria ad altre attività di vendita di alimentari, come piccoli supermercati legati a grandi catene, lasciando la possibilità di apertura solo a negozi di vicinato, panifici e botteghe di frutta e verdura.